Sì, si facciano, più poco, da un paio d'anni non è... ...signori, una delle moto più belle in assoluto... ...6.50 di filentrico, Paolo Pagotti, signori, non è soltanto un paio... ...la di filentrico, grazie, Paolo Pagotti... ...la di filentrico, non è soltanto un paio d'anni non è soltanto un paio d'anni... ...signori, nella storia qui era, nella storia del popolismo italiano e del popolismo italiano... ...che viene a futuro, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia... ...dietro qui, quindi, in Italia... ...arriva! ...è andato in tecnologia in Italia con questa moto... ...è andato da solo! Quindi, io credo che per... ...l'Univa è uno dei sottotitoli dell'Unione nazionale della motociclo... ...la moto è una Norfolk 25 del 1927... ...gli anaro moto da competizione sul vento mostro, con gli stimenti di зан texto... Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti